Sono giorni molto difficili per la nostra regione a causa dei numerosi roghi che hanno interessato gran parte del territorio. Con il 60% degli incendi di probabile natura dolosa occorre aumentare l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinante per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Lo afferma Coldiretti Puglia in riferimento all'incendio con tre fronti tuttora attivi che da sei giorni sta interessando il Bosco Difesa Grande di Gravina dove sono andati in fumo oltre 1000 ettari di macchia mediterranea con gravi danni anche all'agricoltura e alle strutture rurali. Enorme lo sforzo dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle forze dell'ordine per arginare le fiamme che hanno interessato un'area vasta di pregio naturalistico, paesaggistico e turistico oltre che produttivo. L'estate 2021 in Puglia conta già oltre il 40% in più di roghi rispetto all'anno scorso, sottolinea Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Già nel 2020 c'era stata un'impennata del 33% degli incendi in Puglia con conseguenze drammatiche in termini ambientali a causa delle fiamme che fanno salire la temperatura sino ad oltre 750 gradi. Il Bosco Difesa Grande è un bosco naturale spontaneo di quasi 2000 ettari e rappresenta una residua a testimonianza della rigogliosa foresta mesofita che ricopriva gran parte della Puglia. Per ricostruire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni.